Alfonso Virgilio di Campofranco, campionato di eccellenza siciliana per il Girone A, il fanalino di coda del Girone, il Cus Palermo di Mr. Ferrara, reduce alla sconfitta per 3-0 contro l'Unitas Sciacca, rende visita alla nista di Mr. Bognanni, reduce da un notturno di riposo forzato causa Covid nell'ultima sfida contro il Castellammare. 4-3-3, consueto abito per Mr. Bognanni per vestire la propria nista con cheba tra i pali, di fronte a lui Garofalo di Oppo Conti e Santa Maria, bisogno Caronia ed Illario a comporre la cerniera di centrocampo, Camara, Retucci e Pardo come tridente offensivo dirige l'incontro del signor Luigi Pica di Roma 1, coadiuvato da Giuseppe Torre, Barcellona, Pozzo di Gotto e Antonino Catanese di Messina, quando grazie alle immagini che ci giungono da Marco Lamendola possiamo passare a raccontarvi del film di questa sfida. Total white per la compagine bianco scudata, maglia rossa e pantecini blu per quella palermitana al settimo di gioco, Pardo fa correre Garofalo che lavora bene sulla fascia destra, pallone dentro all'indirizzo di Retucci, colpo di testa che non c'entra, il bersaglio grosso al 28esimo gara, contrata all'Alfonso Virgilio, la nista ci prova da fuori ancora con Mattia Retucci che serve Bognanni, carica il destro a salve. Carnevale blocca senza problemi, termina così la prima frazione di gioco parziale ad occhiali all'Alfonso Virgilio di Campofranco, Cus Palermo che si sta difendendo con le unghie e con i denti facendo anche un ostruzionismo. Passiamo allora al film della ripresa che si apre al 55esimo con lo sliding door di questa sfida, Retucci già ammonito, commette fallo e viene espulso da Luigi Pica per questo intervento a palla lontana, secondo giallo e conseguente rosso doccia anticipata per il bomber di Mr. Bognanni. Costretto allora a pescare dalla panchina il tecnico giallorosso con Mazzoni che rileva Camara sui 6000 metri quadrati e l'Alfonso Virgilio non accadrà più nulla, termina 0-0 tra Nissa e Cus Palermo, una partita a dir poco soporifera caratterizzata ovviamente dall'episodio che costringerà Retucci a saltare la prossima sfida contro la Don Carlo Misilmeri. Un saluto allora amici appassionati, appuntamento come al solito, alla prossima!